ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi ho preparato un nuovo tutorial per voi se vi piace questo video lasciatemi sotto nei commenti un cuore grazie prima di iniziare vi voglio presentare questo stupendo marchio francese che si chiama one nail system per prima cosa mi hanno impressionato questi piccoli tappi che si possono riempire col colore e mettere sopra il tappo del bocetto come idea l'ho trovata molto interessante per adesso non ho incontrato nessun brand anche se l'etichetta del prodotto rappresenta molto bene il colore che c'è dentro come bocetto l'ho trovato molto comodo e il colore copre da un singolo strato i prodotti hanno un ottimo prezzo e la consegna è abbastanza veloce sotto nella descrizione di questo video vi lascio un codice sconto che potete usare solo sull'osito grazie a tutti mi schio biancolatte mi schio bianco disegno alla base dei fiori e lo polimeriso in lampada alla base dei fiori e lo polimerisco in lampada Con paint bianco senza dispersione aggiungo i contorni dei fiori. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Mi sono piaciuti anche questi cotoni che non lasciano i peluchi. Sono molto comodi come forma e spessore. Con cleanser tolgo la dispersione del colore. Con colore bianco disegno la base del fiore e lo polimeriso in lampada. Con bianco latte disegno i pettali e le polimeriso in lampada. Con bianco latte disegno i pettali e le polimeri. Con bianco latte disegno i pettali e le polimeri. Grazie a tutti. Con paint bianco e senza espressione aggiungo il contorno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.